Ben ritrovati all'Appetito via in leggenda, in questa puntata siamo a Cannobbio dove si svolge un festival molto interessante, gli scrittori si trovano in questo giardino ed è arrivata Valeria Tron a presentare il suo secondo romanzo, l'aspettavamo da tempo. Grazie mille per questo invito, sono molto felice. Grazie a te perché sei già stata con noi in occasione del tuo primo romanzo e adesso dobbiamo parlare di Pietra Dolce però. Ci riporti nella Val Germanasca, nelle tue terre, nelle tue montagne, tra la tua gente e ci racconti una storia questa volta di miniera, di gente che lavora in miniera perché molti non sanno che c'è una miniera di talco nei luoghi in cui tu ambienti questa storia, come mai hai scelto la miniera? Beh non è un caso, mio papà era minatore, però la genesi di Pietra Dolce ha 16 anni quindi si perde un pochino più lontano nel tempo. Prima di morire papà un giorno stava piantando un sorbo, un sorbo dell'uccellatore e lì per lì mi ha detto due frasi un po' sconnesse poi in realtà avevano tutte una connessione profonda ma l'ultima cosa che mi ha detto è tanto un giorno mi restituirai, presagendo molto probabilmente il tempo della sua morte. Quell'inverno papà ce n'è andato e quella promessa involontaria è rimasta dentro di me a covare per 15 anni. Avevo capito che quel tu mi restituirai era un atto estrattivo appunto e quindi la richiesta non era quella sorgiva dell'equilibrio delle lucciole, cioè dell'indagine della casa che ci abita, ma dall'estrarre dai vuoti e quindi anche dai silenzi e quindi anche dalle cose non dette e specialmente dal canto, tutto quello che mi avevano musicato dentro, mi avevano lasciato musicato dentro. In questo libro la Val Germanasca è il punto di partenza, perché poi in realtà i protagonisti se ne andranno tutti tranne uno o c'è chi arriverà anche da oltreoceano ma poi ritornerà, insomma è un libro di viaggi e spostamenti come una ragnatela e quindi diciamo che i personaggi di questo libro sono i silenzi musicati tra me e mio papà. È un'immagine bellissima come tutte le immagini che troviamo in questa storia, fino dalla prima che mi ha colpito tantissimo, questa scena che definirei una natività, nel vero senso della parola, di Lis che è il protagonista, ma poi sono tanti i protagonisti, in effetti è un po' un romanzo corale. È un romanzo corale, assolutamente. Però diciamo che Lis è un po' il figlio, è colui che poi lega tutti. Giusto. E c'è questa natività di questo bimbo che nasce in un prato e la sua seconda mamma è una capra. Mi piaceva l'idea che tutto nasce e quindi cominciare con una nascita come tutto nasce, specialmente come nasce un canto. C'è sempre una prima voce che comincia e le altre che si aggregano, a volte anche stonate, a volte buffe, a volte diciamo così alte, però lanciate verso un'unione. E poi c'è una voce che quasi sempre quando noi cantiamo c'è qualcuno che fa un ah e si dimentica che la canzone è finita, ma è proprio quella coda di voce che noi dobbiamo riprendere per iniziare il canto. Lis è un figlio del mondo, sai che io scrivo a strati, a metafore, quindi Lis è un figlio del mondo. E la maternità è innanzitutto un sentimento, per cui indaghiamo in questo libro almeno cinque sentimenti di maternità più uno che è quello che hanno questi uomini, questi amici, questi fratelli elettivi, questa famiglia di uomini elettivi tra loro. perché anche la maternità noi la usiamo con l'accezione diciamo del genere femminile, ma in realtà se è un sentimento possiamo allargarla davvero a tutti i generi e anche a tutte le specie, non a caso le prime orecchie che prestano ascolto al canto di Lis sono quelle di Beretta, una capra che lo seguirà tutta la vita finché avrà fiato. C'è una cosa da dire, che a Alice manca una U, è nato con una mancanza, per cui la sua odissea sarà un'odissea confinata all'interno della sua valle, non meno avventurosa, non meno difficoltosa e alla fine anche non meno riscattata, mi viene da dire. Nel tuo canto poi c'è una lingua particolare, no? Per chi ancora non ti avesse letta, non ti avesse scoperta, cioè il Patois. Sì certo, il Patois è la Languedoc, è l'occitano alpino, è la lingua che mi ha allattata, è la lingua che mi ha insegnato a guardare, a mappare i sensi, a guardare anche la mia terra ma la terra tutta e questo mi viene da dire, una lingua di terra ti affratella quasi naturalmente con tutte le altre lingue di terra, non a caso questo romanzo ce n'è molto meno rispetto all'equilibrio delle luciole perché fa spazio a un po' di argentino e anche questo mi piace, oppure a un po' di francese, abbiamo anche qualche frase in francese, mi piace l'indagine, il far cantare insieme anche le lingue, questo secondo me è un grande moto di libertà ed è un grande moto anche di accoglienza nel senso profondo del termine. L'accoglienza di questa gente di montagna che ha una grandissima dignità, una grandissima forza e una grandissima apertura verso il mondo, cosa che magari potrebbe sembrare strano a chi non conosce la montagna e pensa a un paesino con questa cascata meravigliosa che fa da spondo. In questo libro ho cercato di soverchiare un po' il concetto di radice per come ce l'hanno sempre presentato, la radice non è qualcosa che ti pianta in un punto ma è il tuo punto di partenza verso tutti gli altri punti, d'altronde anche le foreste comunicano, gli alberi nelle foreste comunica tra loro attraverso la rete radicale dal primo all'ultimo di una foresta e poi c'è una cosa in più, tu hai detto queste parole io te ne dico un'altra, coraggio, cos'è il coraggio? Beh quella parola l'ha inventata il patois e ha sentito la mia lingua la necessità di inventare la parola coraggio, d'accord, cuore, quindi è muscolare solo in quel senso e anche questo volevo ribaltare, cioè la parola coraggio significa metterci il cuore, ha tutto a che fare con la speranza e niente a che fare con la forza fisica e proprio nella sua etimologia e nella sua espressione altissima, ridurla a una parola che ha anche a che fare diciamo con una difesa fisica e ridurne proprio la sua etimologia, ridurne il cuore e poi il patois che è una lingua meravigliosa perché è la lingua della poesia, ma ha sentito anche lì l'esigenza di unire due termini in uno solo, libro e libero, libero, e già ti dice perché è nata, capisci? È una lingua che non ha paura dell'incontro, è una lingua che vuole essere liberata come tutte le lingue di terra e noi per fortuna ne abbiamo un patrimonio incredibile in Italia se non le soffochiamo, è una lingua che non ha paura dell'incontro dell'altro ma ti dice anche che tu sei letteratura, che tu sei il libro che io voglio indagare da qualsiasi parte del mondo tu arrivi, sei il benvenuto perché porti la tua storia, la tua piccola odissea, la tua grande letteratura. È il tuo canto. È il tuo canto specialmente. Ecco, ci sono anche delle grandissime storie d'amore, credo che in questo ti sei veramente superata perché hai raccontato delle storie meravigliose, sia quelle che hanno un lieto fine, insomma, quelle che un po' meno, anzi, la maggior parte non ha più. È l'amore nei suoi risvolti, perché anche quello tra il vecchio Frillo Beck e la sua corva bass, che è una sintonia eccellente come quella che c'è tra il violino e l'archetto, è una forma d'amore, cioè una forma di riconoscenza, più che d'amore nel senso proprio dell'innamoramento, era proprio una questione di risonanza, cioè di risuonare nell'altro. Quello, secondo me, è il seme principe e dell'innesto fondamentale di ogni opera d'amore, ma anche ogni opera creativa, ma anche ogni opera d'artigianato, che contiene quell'innesto di risonanza o quell'esigenza di risonanza. E poi, perché in questo tempo, credo più che mai, che la gentilezza, la poesia e la musica siano delle idee evoluzionarie, come dice Lisse. Cioè, è impossibile fare una rivoluzione se prima non evolviamo, ma a me piace pensare a delle idee evoluzionarie e credo che liberare un libero, cioè il libero che siamo, il libro che siamo, la letteratura che siamo, in modo gentile, sia veramente un'evoluzione incredibile. E poi la potenza della letteratura, anche per la vita singola, no? Assolutamente. Tu non entriamo nel dettaglio, però Lisse supera un momento terribile. Assolutamente. Grazie. A me la lettura, la lettura o la storia dell'altro, il riconoscimento, il leggermi nell'altro, mi ha letteralmente salvato la vita quando ero ragazzina. mi ha anche permesso di veicolare maggiormente le mie attitudini creative, quindi il disegno, ma banalmente anche il lavoro nei campi, la musica, la poesia, tutto. E quindi credo davvero che sia un ancora, ancora un ancora. Cioè, voglio dire, sia un ancoraggio forte. Tra l'altro, mi piace il concetto che noi, che la miniera qui è certamente un luogo, ma è chiaramente un topos letterario, cioè la miniera che noi siamo. E quindi minare, ruminare, minare e restituire. Capisci? Ruminare e minare. È un po' il lavoro che fa lo scrittore. È un po' il lavoro che facciamo tutti. Io non credo che lo scrittore faccia un lavoro speciale. Io sono un'artigiana e prima di lavorare con le mani chiaramente rumino l'idea. E mentre lavoro con le mani rumino pensieri e concetti. Se non lavorassi con le mani, probabilmente, per come sono fatta io, il mio cervello lavorerebbe la metà. Perché tutto di noi è intelligente, non solo il pensiero. Secondo me è stato un po' un errore relegare l'intelligenza al solo pensiero. I nostri sensi sono altrettanto intelligenti e collaborano appunto a quello che è il rumine dei concetti, il rumine della vita che poi dovremmo essere pronti a restituire. Mi viene in mente anche un'immagine bellissima che tu descrivi nel libro di Mina che prega mentre coltiva il torto. Quella sono io. Sei tu? Sì, perché ho questo contatto direttissimo con tutto ciò che vive. Ho comunque questo dialogo continuo con le creature e proprio mio da quando sono bambina e da sempre. Prego nell'orto, prego nei campi, prego quando sono sola con qualcosa che possa capirmi. E generalmente la natura ha i suoi tempi, però rivela sempre delle risposte o dei consigli meravigliosi. Quindi forse perché sono cresciuta anche lassù e quindi c'è anche una questione di attesa, cioè una tensione. Attendere non significa aspettare, significa tendere verso qualcosa. E quindi una tensione verso l'altro, che sia esso un fiore, uno scarabeo stercorario, un piccolo porcellino di terra oppure il ragno che ho rivisto in queste sere, che ho chiamato Galileo perché è un genio. Cioè io ho veramente questo ragno. Poi magari è una femmina perché generalmente a fare delle architetture così complesse nelle ragnatele sono le femmine, però non mi interessa. L'ho chiamato Galileo perché punta sempre le stelle ed ha un carattere e una pazienza e una meticolosità che per me, insomma, sono maestre, sono incredibili. Per cui sì, sono io. Mina, questa cosa di Mina è un po' mia. E credo che sia un'immagine bellissima e veramente consigliamo di leggere questo romanzo per trovare tantissimi temi, come già solo qualcuno che tu c'hai proposto. Molto attuali. Adesso. E la speranza, ecco, questa speranza, no? Molto attuali, sì. Quando si dice, quando le montagne saranno vuote, che cosa ci rimarrà? Ci rimarrà la speranza. Ma guarda, non è una questione solo di montagna, io credo che la montagna sia una questione di attitudine. E non di altitudine. E quindi l'attitudine è quella sicuramente a riconoscersi, fare cassa armonica, se la immaginiamo, cioè riportare i suoni e rimbombarli talmente forte che si possano anche sentire ovunque. Mi piace pensare che partendo da queste storie si arrivi a toccare, a lambire un'universalità che appartiene davvero a tutti, anche a persone che vivono all'attitudine lontane dalle mie. Quindi, insomma, è un moto d'accoglienza in questo senso, o di sopravvivenza, cioè di vivere sopra, di guardare le cose dall'alto. Grazie mille Valeria Tron, leggete Pietra Dolce e ci vediamo alla prossima. Grazie mille. Grazie.